Oggi il via ai lavori al biodigestore alla Cronion e Moncada dice contro di me a canimento ma sono pronto a subire grosse penali se non rispetterò emissioni di CO2 previste. Legambiente intanto ribadisce il sostegno al progetto. Un arresto a Villa Franca Sicola è stato operato dai carabinieri nei confronti di un incensurato del luogo di 25 anni, sorpreso in possesso di un fucile, alcune dosi di cocaina, un bilancino di precisione e perfino un paio di manette. Ufficio tecnico di Sciacca a rischio paralisi, la denuncia oggi degli ordini professionali di architetti, ingegneri, agronomi e geologi. Anche il centrodestra preoccupato della situazione, l'assessore Leonte ha assunto alcuni impegni. Nuova ennesima protesta della signora Gina Cucchiara che col marito si sono incatenati nel latro del comune dopo che la casa popolare a lei destinata sarebbe stata occupata da un altro bisognoso. Mi prendono in giro, protesta la donna. Fa discutere la svolta sociale della Valenti che ormai comunica per lo più attraverso Facebook. Snobba il Consiglio Comunale, l'accusa il centrodestra, che ricorda come la città si debba parlare soprattutto con la comunicazione istituzionale. Miss e Mr. Modamare 2019 saranno eletti domenica prossima al culmine di una serata di sfilate ma anche di ballo e intrattenimento. Serata promossa dal team di Creazioni sotto le stelle all'opera per il galà di mode da Stylist in programma a settembre. Ben ritrovati alla nuova edizione di RMK Notizie. La questione biodigestore in apertura. La società Mai Etanol annuncia oggi di avere iniziato i lavori all'impianto Ex Cronion. L'imprenditore Moncata ribadisce di non comprendere quello che definisce un vero e proprio accanimento nei suoi confronti e avanza una proposta all'amministrazione comunale. Si dichiara pronto a sottoscrivere un accordo con il comune di Sciacca che preveda grosse penali per la sua società nel caso in cui non saranno rispettate le emissioni di CO2 previste nel progetto. Sentiamo Maria Genuardi. La Moncata Energy comunica di aver dato inizio ai lavori di ristrutturazione della distilleria Cronion nel comune di Sciacca i quali prevedono la realizzazione a valle della distilleria esistente di un impianto di digestione anaerobica che tratterà la borlanda di distillazione. Si apre così la nota inviata oggi alla stampa dall'imprenditore Salvatore Moncata che subito dopo torna a parlare di accanimento generale riservato alla sua iniziativa imprenditoriale di dichiarazioni non veritiere in merito alle emissioni ambientali della distilleria e di quelle che ritiene prese di posizione ingiustificate dell'amministrazione Valenti. Significative in tal senso per Moncata sarebbero le ispezioni allo stabilimento di Contrada Piana Scunchi Pani con priorità rispetto a tutte le altre attività della Polizia Municipale e la consulenza tecnica della professoressa Livreri che per l'imprenditore riporterebbe falsità in relazione alle quantità trattate con la conseguenza di aver generato, aggiunge, un clima ostile che ha impedito un approccio costruttivo e collaborativo fra le parti. Moncata richiene di aver provato in ogni modo ad avere un confronto con la città e con l'amministrazione e il Consiglio Comunale. Abbiamo tentato di organizzare un incontro con il Comitato di Contrada Piana Scunchi Pani, scrive, ma l'invito è stato sempre declinato. Abbiamo richiesto tramite PEC un tavolo di discussione con il SINACO Valenti per illustrare senza riservi del progetto, ma anche questa richiesta è rimasta in evasa. Negli ultimi giorni, si legge ancora nella nota diffusa dalla Moncata Energy, abbiamo appreso dalla stampa che l'amministrazione e il Consiglio Comunale di Sciacca hanno preso atto della regolarità del progetto e di tutto l'iter autorizzativo che ha condotto all'inizio dei lavori, seppure continuino le minacce sui controlli e sulla possibilità di richiedere uno stop al progetto. Non ci preoccupa nulla di tutto questo, ribadisce oggi Moncata, che avanza però un'ulteriore proposta finalizzata, dice, a dimostrare da un lato la sua correttezza aziendale e dall'altro a confutare le informazioni divulgate che hanno generato allarme nella collettività. In pratica, Salvatore Moncata si dice pronto a sottoscrivere un accordo con l'amministrazione comunale di Sciacca che preveda delle penali anche cospicue, scrive, a carico della MyEthanol, qualora il numero di mezzi in ingresso nello stabilimento sarà superiore a otto al giorno. Peraltro evidenzia la quantità di mezzi indicata risulta estraanaloga a quella già circolante nei precedenti anni durante il periodo della campagna di distillazione estiva. E intanto Lega Ambiente Sicilia ha chiesto di poter partecipare alla riunione congiunta delle commissioni attività produttiva, ambiente, territorio, mobilità, salute, servizi sociali e sanitari dell'ARS in programma il 18 luglio prossimo. Come è noto da tempo, Lega Ambiente è favorevole al progetto del biodigestore che la società Maietanole intende realizzare a Sciacca nell'ex stabilimento enologico Cronion, un progetto che per l'associazione ambientalista non solo non andrebbe osteggiato, ma addirittura incoraggiato, considerato che è volto a produrre energia pulita e che valorizzerebbe risorse già presenti sul territorio. La distilleria, scrive Lega Ambiente Sicilia, a seguito dei processi produttivi autorizzati, sarà in grado di ricavare concime agricole e biogas che sarà reimmesso in rete per la distribuzione, chiudendo così un ciclo produttivo virtuoso, quale quello della produzione di energia pulita proveniente dalla lavorazione di prodotti agricoli. Nella nota diffusa, l'associazione sostiene poi che l'impianto non costituisce una minaccia per la salute dei residenti, in quanto il processo di biodigestione avverrà in fase anaerobica, senza quindi esalazioni maleodoranti nell'ambiente circostante. Ora passiamo alla cronaca. Si chiamava Luigi Alessi e aveva 63 anni, l'agricoltore di San Biagio Platani morto in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato dal suo trattore in un ambito particolarmente infausto. I fatti si sono verificati in via Papa Giovanni XXIII. Dopo aver parcheggiato il trattore, all'improvviso Alessi si è accorto che il mezzo era in movimento. Il contadino dunque avrebbe provato ad arrestarlo, arrampicandosi sulla cabina guida, scivolando e rimanendo schiacciato da una ruota. Nonostante l'intervento dell'ambulanza e dell'elisoccorso del 118, per il contadino non c'è stato nulla da fare. Della ricostruzione dell'incidente si stanno occupando i carabinieri. E ancora cronaca, un fucile a canne mozze, alcune dosi di cocaina, un bilancino di precisione e persino un paio di manette simili a quelle usate dalle forze dell'ordine. E quanto hanno trovato i carabinieri della compagnia di Sciacca durante una perquisizione di un'abitazione del centro di Villa Franca Sicula? Ad essere arrestato è stato un incensurato del luogo di 25 anni. Un fucile, cocaina, bilancino di precisione e manette. E quanto hanno trovato all'interno dell'abitazione di un incensurato 25enne i carabinieri della compagnia di Sciacca durante una perquisizione effettuata nel centro di Villa Franca Sicula? Già da qualche giorno era stato notato, ricostruiscono i carabinieri del comando provinciale di Egrigento, un insolito andirivieni dalla casa dove abitava il giovane, movimenti che avevano fatto insospettire militari dell'arma. Dopo alcuni appostamenti svolti con personale in borghese, alle prime luci dell'albe è stato effettuato un blitz nella residenza. Durante l'accurato controllo dell'appartamento, all'interno di una camera da letto e in bella mostra, prosegue la ricostruzione ufficiale del comando provinciale, i carabinieri hanno trovato un fucile semiautomatico a canne mozze calibro 12 con matricola a brasa e con relative cartucce, risultato illegalmente detenuto. Occultate dentro un pacchetto di sigarette, sono state scovate anche alcune dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre 5 grammi. Nel corso delle operazioni, i militari hanno anche rinvenuto materiale vario per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e persino un paio di manette, simili a quelle in uso alle forze dell'ordine. Il 25enne è stato arrestato con l'accusa di illegale detenzione di armi e manutenzioni e detenzione di droga ai fini di spaccio. L'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento del giovane al carcere di Sciacca. Tragedia sfiorata questa mattina presso il litorale di San Marco. Una turista cinquantenne ha rischiato l'annegamento a causa del mare mosso, ad evitare che accadesse il peggio sono stati due bagnini che sono immediatamente intervenuti in soccorso della donna, riportandola a riva. I bagnini che hanno effettuato il sabotaggio non facevano parte del servizio di vigilanza offerto dal comune, ma erano quelli assunti dagli stabilimenti balneari della zona. No della Corte di Appello di Caltanissetta all'istanza di revisione proposta da Giorgio Lorefice contro la sentenza di condanna a otto anni e mezzo di reclusione pronunciata a suo carico è diventata definitiva negli anni scorsi. La richiesta di revisione era scaturita da una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale aveva censurato una scelta di natura formale della Corte di Appello di Palermo. Lorefice era stato dichiarato colpevole dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e danneggiamento con materiale esplosivo in ordine all'atto intimidatorio subito dall'ex ingegnere capo del comune di Sciacca, Giuseppe di Giovanna, nel maggio del 2001, condannato a otto anni e mezzo di reclusione. E adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria. A tra poco. Ufficio tecnico comunale si rischia la paralisi lo hanno denunciato i rappresentanti degli ordini degli architetti, ingegneri, geologi, agronomi e geometri che hanno affrontato la problematica nel corso di una riunione con l'assessore al personale Fabio Leonte, amministrazione che ha assunto degli impegni per i prossimi mesi. Sentiamo. Sono stati i rappresentanti degli ordini professionali, architetti, ingegneri, geometri, geologi e agronomi a sollecitare il confronto con l'amministrazione comunale sulla grave situazione in cui versa l'ufficio tecnico di Sciacca. Alla riunione con l'assessore al personale Fabio Leonte hanno preso parte anche i consiglieri Frigerio e Gulotta, oltre ai dirigenti dell'ufficio tecnico, Bono e Nicolosi. Non è la prima volta che si evidenziano le criticità relative, soprattutto alla carenza di tecnici, che si aggraverà ancora di più nei prossimi mesi per i tanti pensionamenti. La necessità di nuove assunzioni rappresenta dunque, per gli ordini professionali, la vera priorità, ma è stata sollecitata anche l'adozione di strumenti in grado di snellire il lavoro dei pochi impiegati e assicurare al tempo stesso tempi brevi e procedure più semplici per i professionisti che curano le pratiche per conto dei cittadini. E dagli ordini professionali è arrivata anche la richiesta di avere più giorni di apertura al pubblico dell'ufficio tecnico comunale, sia per quanto riguarda la consultazione e l'archivio, sia per i certificati di destinazione urbanistica, sia per poter interloquire con i tecnici comunali. A queste richieste l'assessore Leonte ha risposto sostenendo che, entro l'anno, l'amministrazione cercherà di mettere in servizio almeno tre tecnici con la procedura della mobilità, per arrivare poi, nei prossimi tre anni, a disporre di dieci nuove unità all'ufficio tecnico comunale. Sull'apertura al pubblico, Leonte ha assunto l'impegno di garantire tre giorni a settimana per i certificati urbanistici, due volte per l'archivio e, a partire però da settembre, l'apertura due giorni a settimana per il ricevimento, attualmente limitato solo al mercoledì. Sulla questione dell'ammodernamento e snellimento delle procedure, l'amministrazione comunale ha annunciato che, entro settembre, verrà acquistata la piattaforma digitale necessaria ad attivare lo sportello unico per l'edilizia, già operativo in molti comuni italiani, e si procederà alla formazione del personale. Nulla di garantito, invece, su un'altra richiesta avanzata dagli ordini professionali, quella di adottare anche a sciacca la modulistica unificata, che è presente, peraltro, sul sito della regione siciliana, rispetto a quella utilizzata ancora dal comune e che non è in linea con le direttive regionali. A margine dell'incontro, i professionisti sono tornati a denunciare la grave crisi del settore dell'edilizia sciacca, che verrà accentuata, gioco forza, anche dalla carenza di personale all'ufficio tecnico comunale. Proprio oggi, sulla grave carenza di personale all'ufficio tecnico comunale, sono intervenuti i consiglieri di opposizione di centrodestra. Già un anno fa avevano sottolineato il problema e sollecitato soluzioni, ma nulla è stato fatto, sostengono i consiglieri di opposizione. Ci sono le interviste. La carenza di personale al comune di Sciacca è noto ormai da tempo. Riguarda tutti i settori, ma è particolarmente critica la situazione dell'ufficio tecnico, al centro, oggi, di un altro intervento dei consiglieri di centrodestra. Sono note a tutte le problematiche di carenza di personale che non permettono a quelli che ci sono di istruire tutte le pratiche, anche quelle più semplici, anche se fanno un lavoro enorme. Su questo il governo nazionale non ci ha aiutato tantissimo con i pensionamenti e la quota 100, che se da un lato permette il pensionamento, dall'altro lato ha indebolito tantissimo le pubbliche amministrazioni. Però noi, diciamo, è già da un anno che eravamo intervenuti sulla vicenda e questa amministrazione non ha fatto nulla per colmare questa carenza di personale. Ma cosa può fare un'amministrazione a fronte del blocco dei concorsi e di tanti che vanno giustamente in pensione? Cioè come si risolve il problema personale al comune di Sciacca? Ma il problema personale è intanto un affare dell'amministrazione e deve trovare delle soluzioni idonee a colmare questo gap che si sta creando. E' chiaro che se un'amministrazione non riesce a trovare le soluzioni, fa commissariare il comune e ci pensa il commissario a risolvere i problemi. Un'amministrazione non si può piangere addosso delle problematiche senza trovare le soluzioni. Ripeto, noi in merito all'ufficio tecnico avevamo pure presentato un emendamento a valere nel DUP 2018-2020 che prevedeva l'inserimento in bilancio di 25 mila euro per l'acquisto del software di cui parlava anche il sindaco. Questo emendamento, quindi una proposta fatta dalle opposizioni che è stata bocciata puntualmente dall'amministrazione. Quindi se da un lato l'amministrazione cerca la collaborazione, poi quando questa opposizione cerca di fare delle proposte vengono puntualmente bocciate proposte utili alla causa di cui stiamo parlando. Quindi altro che colpa delle opposizioni, come dice il sindaco, con la solita favola della mancata approvazione delle variazioni di bilancio che ritengo sia, se le variazioni di bilancio non si sono approvate, sia responsabilità unica del sindaco perché un sindaco che in maniera irresponsabile procede a fare un azzeramento e perdere i numeri in aula deve sapere che poi non ha più i numeri per dare un governo stabile alla città. Che cosa chiedete all'amministrazione per affrontare, cominciare ad affrontare le problematiche del personale di tutto il comune di Sciacca e in particolare dell'ufficio tecnico che è quello che soffre di più? Intanto iniziare a sposare le proposte che arrivano dai consiglieri comunali e che sono utili alla nostra causa e poi come abbiamo scritto già nella nota esiste un link già comunicato all'amministrazione un anno fa da noi stessi un link tramite il quale diversi cittadini e professionisti possono presentare le pratiche in via telematica semplificando quello che è l'iter amministrativo per la concessione di una qualsiasi cosa e questo servizio è a costo zero. Mi sorprende come mai il sindaco nella riunione con i professionisti non abbia invitato i professionisti a presentare le pratiche tramite questo link. Questo è quanto noi ci sentiamo di dire ed è una proposta ed un invito che noi più volte abbiamo fatto a questa amministrazione nonostante questa amministrazione dimostra di non accettare mai le proposte e gli inviti utili alla città e alla collettività che arrivano dalle opposizioni. Nuova protesta della signora Gina Cucchiara che da anni attende di potersi stabilire all'interno di un alloggio popolare. La signora Gina aspetta il suo turno ma è una lotta impari visto che c'è chi non esita ad occupare gli alloggi a lei destinati sfondando le porte e stabilendosi all'interno. Oggi Gina Cucchiara e il marito sono tornati ad incatenarsi al comune. Vediamo. C'è chi tra le persone bisognose trasforma la disperazione in atti plateali occupando le case popolari disabitate sfondando la porta e stabilendosi al suo interno. Ma c'è anche chi non ha questa medesima audacia e si ritrova ancora senza un posto dove poter abitare. È il caso di Gina Cucchiara. La donna di sciacca priva degli arti è costretta su una sedia a rotelle che da anni chiede un alloggio. Un anno e sei mesi aspettavo questa casa. Aspettiamo sempre, aspetto sempre questa casa che me la danno perché la casa sarà assegnata a me. Al di genere me l'hanno detto ma loro non fanno niente, devono fare bando. Ma questo bando è che cosa? Vanno presto tutti in giro. La donna che sono in questa condizione non si prende in giro. Io non credo più nessuno infatti. Tutto il giorno qua vado a stare io oggi. Domani pure, sì, pure domani. L'ultimo episodio è di qualche giorno fa. Hanno occupato una casa popolare praticamente, che ancora aspettavo assegnatare la Gina. Praticamente l'hanno sfondata la casa popolare e ora ci stanno dentro delle persone, con i bambini. La potevo sfondare pure io, ma non posso fare una cosa penale che poi vada a rischio a tante cose. Non è che guarda lo Stato come messaggina. Ci vuole un po' di sensibilità, ci vuole per queste cose. Mi dicono sempre di sfondare, sfondare case. Non lo so di quale situazione siamo messi. Ma il comune è questa mattina, a tre ore che siamo qua, che non si vede nessuno scendere. E non so, l'unica casa che può entrare Gina è questa contrata Ferrara numero 28. Oggi Gina Cucchiara, insieme col marito, sono tornate a incatenarsi per protesta al comune. Se loro non fanno niente. Anche domani sono qua mattina io pure. Fa discutere la svolta social di Francesca Valenti, che continua in perterrita ogni giorno a comunicare alla città attraverso il suo profilo Facebook. Il centro-destra prende posizione e accusa la prima cittadina di continuare a snobbare il Consiglio Comunale e sostanzialmente di trascurare la comunicazione istituzionale per la quale c'è un dipendente comunale che di fatto non viene utilizzato. Il punto nel servizio di Massimo D'Antoni. La svolta social di Francesca Valenti è ormai un dato di fatto e il nostro telegiornale l'ha sottolineata già nelle settimane scorse come fenomeno politico, come chiave di volta nel rapporto per lungo tempo critico tra l'amministrazione e la cittadinanza. Una scelta quella anche sostenuta dalla pagina Facebook Buongiorno Sciacca, saluto che è l'incipit di ciascun post pubblicato dal sindaco che ha indotto il primo cittadino a giocarsela ad armi pari, per così dire, con l'opinione pubblica ma evidentemente anche con i suoi avversari politici, su di un terreno, quello social, nel quale polso, ma l'umore ed esigenze della collettività trovano il massimo sfogo possibile, talvolta, come si sa, ben oltre le righe della buona creanza. Questione l'approdo della Valenti su Facebook che non poteva rimanere a lungo e strane alla polemica politica locale. Questa mattina, infatti, i consiglieri dello schieramento di centro-destra, a cui va aggiunto il nome di Cinzia Deliberto, intervengono con una nota, sottolineando che la scelta ormai chiara e diuturnamente costante del sindaco di comunicare all'esterno sull'attività dell'amministrazione attraverso Facebook, pur legittima, si ha un valore politico dal punto di vista amministrativo, trascura quello simbolico della comunicazione istituzionale per la quale, peraltro, stando a quanto risulta, la stessa pianta organica del comune di Sciacca annovera una specifica professionalità, in riferimento a un dipendente regolarmente iscritto all'ordine dei giornalisti e che dovrebbe svolgere le mansioni di ufficio stampa. I consiglieri di opposizione considerano il social network una straordinaria possibilità, soprattutto per un operatore pubblico, di confronto e dialogo, anche recependo eventuali suggerimenti che sovente assumono una valenza particolarmente significativa, in quanto anche espressione di volontà popolare. Nulla da dire, dunque, da parte degli esponenti del centro-destra, in ordine al rapporto diretto e anche informale che il capo dell'amministrazione ha deciso di perseguire su Facebook. Ma il comune, fanno notare i consiglieri, parla comunque a tutta la città e non certo soltanto agli utenti di Facebook. Ed è in tale direzione che la minoranza inserisce nella discussione un altro problema, quello relativo a ciò che nella nota viene definito il continuo e inesorabile svilimento del Consiglio Comunale che dovrebbe essere il luogo idoneo alla comunicazione relativa all'attività amministrativa, un Consiglio Comunale che, come sempre, l'opinione dei consiglieri viene dunque snobbato. Una vicenda che dunque è destinata ancora a far discutere. Francesca Valenti, infatti, ogni giorno ha più riprese, pubblica foto e post su iniziative culturali, pulizia della città, commenti sul senso civico e così via. Ieri perfino la notizia dell'istituzione della ZTL tra le piazze Purgatoria e Inveges è stata resa nota attraverso un post su Facebook. Sarà stato anche questo fatto che ha indotto al centro-destra ad intervenire. È anche vero che con la decisione di fronteggiare la propaganda contro di lei con le stesse armi, Francesca Valenti ha a che fare con una medaglia dalla doppia faccia. Il Comitato dei Sindaci del distretto sociosanitario di Sei ha approvato la programmazione delle risorse, delle quote dei servizi del Fondo Povertà, piano di attuazione locale, per promuovere e diffondere delle misure di contrasto alla povertà. Al distretto di Sei è stata assegnata la somma di 260.000 euro al fine di rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del reddito di inclusione. L'approvazione del Palla, afferma l'assessore Montalbano del Comune di Ribera, è un fatto importante a sostegno delle famiglie in difficoltà. Il distretto di Sei è uno dei pochissimi distretti siciliani che sono riusciti, nei tempi eccessivamente ristretti previsti dal bando, a presentare ed ottenere il finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Banca Mondiale. Non mi meraviglia la bocciatura da parte del TAR delle ordinanze plastic free emesse da diversi sindaci siciliani, visto che il relativo disegno di legge è fermo da mesi in Commissione Bilancio per mancanza di copertura finanziaria. A parlare così è oggi la Presidente della Commissione Ambiente, Giussi Savarino, la quale ricorda come la legge in questione non era volta solo a limitare l'utilizzo della plastica e a spingere sul suo riutilizzo con un sistema di incentivi e disincentivi, ma anche a creare un fondo che permettesse alle imprese di riconvertire i loro stabilimenti in produzione di monouso biodegradabili, scongiurando la chiusura e la conseguenziale perdita di lavoro per centinaia di famiglie. È amaro per Giussi Savarino costatare come in Ars il pregevole lavoro di tanti colleghi nelle commissioni venga svilito. E adesso ancora la pubblicità, a tra poco. Fa discutere a Burgio l'approvazione di una delibera di giunta contenente un'integrazione economica ad una impresa del luogo. Non è il contenuto del provvedimento ad avere generato uno scontro tra maggioranza e opposizione, bensì il fatto che è stato votato da un assessore che è la sorella del titolare della ditta beneficiaria. C'è il servizio. Potrebbe essere solo il più banale degli scivoloni la discussa delibera approvata dalla giunta municipale di Burgio nell'ambito della necessaria integrazione di 30.000 euro di somme per spese relative alla rimozione di detriti provenienti da frane e materiale vario depositatosi lungo le strade comunali a seguito del nubifragio del 3 novembre del 2018. Certo non è il merito della decisione ciò che ha fatto scendere sul piede di guerra l'opposizione consigliare, bensì il fatto che nella seduta di giunta che ha votato questo provvedimento l'assessore Vincenza Turrisi, sorella del titolare della ditta beneficiaria dell'integrazione economica, non abbia ritenuto di non partecipare ai lavori né tantomeno di comunicare il proprio non voto. Eppure in casi come questi il testo unico degli enti locali parla chiaro imponendo l'astenzione ai singoli amministratori dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi proprio di parenti e affini fino al quarto grado. Sono stati i consiglieri Enzo Galifi, Domenico Arrigo e Calogero Piazza a sollevare una questione che rischia di mettere in imbarazzo l'amministrazione guidata da Francesco Matinella, consiglieri di minoranze i quali mettono in evidenza il fatto che una buona amministrazione, oltre che sotto l'aspetto di una buona gestione della cosa pubblica, viene valutata anche dalla trasparenza e dalla correttezza della propria condotta. Questa delibera aggiungono conferma che a Burgio si sconoscono i principi cardine per una guida regolare ed oculata di un ente pubblico. A Burgio tutto ciò viene purtroppo ignorato e questo non è accettabile. Queste le parole dei consiglieri. Un atteggiamento, quello dell'assessore Turrisi, che vota una delibera e che beneficia il fratello, in evidente il conflitto di interessi dunque, definito pressappochista e dilettantistico. La questione verrà discussa in Consiglio Comunale. Al presidente Vito Ferrantelli è stato espressamente richiesto di convocare al più presto i lavori per un dibattito che si annuncia infuocato. Probabilmente questa delibera dovrà essere annullata e bisognerà approvarne un'altra, ma senza l'assessore Turrisi. Sul piano politico tuttavia la questione è destinata ancora ad alimentare discussioni e dibattiti. L'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo è stato condannato in appello ad un anno di reclusione per voto di scambio nell'ambito delle elezioni regionali del 2012. Insieme a lui condannato anche il figlio Toti. Secondo l'accusa avrebbero promesso e concesso due posti di lavoro in cambio di voti. In primo grado invece erano stati assolti da ogni accusa. Lombardo non ci sta e preannuncia già il ricorso in Cassazione. Una sentenza che potrebbe avere una qualche ripercursione politica anche sull'attuale governo musumeci, sostenuto da Lombardo e dal suo gruppo che ha ottenuto vari incarichi di sottogoverno. Sentiamo Calogero Parla Piano. L'ex governatore della regione Raffaele Lombardo, il figlio Toti, Ernesto Privitera, Giuseppe Giuffrida e Angelo Marino sono stati tutti condannati a un anno, pena sospesa, per voto di scambio. La sentenza in appello capovolge quella di primo grado del 2015, attraverso la quale tutti gli imputati erano stati assolti perché il fatto non sussiste. Al momento della sentenza Lombardo non era in aula, ma non appena avuta la notizia sarebbe andato su tutte le furie, anticipando sia la decisione del ricorso in Cassazione sia la convocazione di una conferenza stampa per spiegare il suo punto di vista nell'ambito di questa vicenda. Al centro del processo le elezioni regionali del 2012 che sancirono la vittoria di Toti Lombardo come deputato regionale nelle file del Movimento per l'Autonomia, con oltre 9.500 voti. Secondo l'accusa, i Lombardo avrebbero promesso due posti di lavoro in cambio di voti in favore del figlio dell'ex presidente della regione. La promessa di assunzione sarebbe stata fatta a Privitera in favore di Marino e Giuffrida, quest'ultimo poi effettivamente assunto nell'azienda che all'epoca gestiva l'appalto dei rifiuti del comune di Catania. Ai fini delle indagini sarebbero state usate anche delle intercettazioni che per la difesa sarebbero state inutilizzabili. Le motivazioni della Corte d'Appello saranno depositate tra 90 giorni, ma è già scontato il ricorso in Cassazione. Appuntamento quindi al terzo capitolo giudiziario di questo processo. Una condanna che, comunque, potrebbe avere pure un suo risvolto politico, posto che Lombardo e il suo gruppo sono presenti a piene mani nell'attuale Assemblea regionale siciliana, targata a Miciche e a Musumeci, con numerosi posti di rilievo e di sottogoverno. Un altro danno di immagine per Nello Musumeci, già costretto a fare i conti con una maggioranza risicata e con numerosi assessori e deputati al centro di varie indagini. Una messa in suffraggio dell'ex assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa sarà celebrata presso la Basilica della Madonna del Soccorso, sabato 20 luglio alle ore 19. L'iniziativa è stata promossa dai gruppi archeologici di Sciacca, città molto legata alla figura del professor Tusa, definito uomo di grande cultura e dai grandi valori umani e morali, che ha onorato la nostra città con la sua assidua e competente attività tecnica ed istituzionale. Gruppi archeologici d'Italia che dunque invitano la cittadinanza a partecipare a questo momento di riflessione. I giovani si radunano, discutono e programmano. Il comune di Sciacca ospita un incontro delle consulte giovanili della provincia di Egrigento. Si terrà domani con inizio alle ore 16 nella sala Blasco del Palazzo Municipale. Prevista anche la presenza del presidente dell'Assemblea delle consulte giovanili siciliane, Alessandro Magistro, e quella del presidente della consulta giovanile di Sciacca, Antony Francesco Bentivegna. Saranno presenti il sindaco Francesca Valenti e il vice sindaco Gisella Mondino, che evidenziano l'importanza di questo appuntamento a carattere provinciale e regionale, con protagonisti attivi giovani che all'interno di organismi istituzionali fanno sentire la propria voce e veicolano le proprie istanze. Adesso la rubrica Il libro del giorno della Mondadori. Non voglio la vostra speranza, voglio che proviate la paura che provo io ogni giorno. Voglio che agiate come fareste in un'emergenza, come se la vostra casa fosse in fiamme, perché lo è. Greta Thunberg ha parlato chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro il cambiamento climatico, convinta che nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Lo sciopero della scuola per il clima di una solitaria e giovanissima studentessa davanti al Parlamento svedese è diventato un messaggio globale e ha coinvolto in tutta Europa centinaia di migliaia di ragazzi che seguono il suo esempio in occasione del Friday's Fortune. Greta ha dato inizio a una rivoluzione che non pare destinata a fermarsi, una battaglia da combattere per un futuro sottratto alle nuove generazioni al ritmo furioso dei cento milioni di barili di petrolio consumati ogni giorno. La nostra casa è in fiamme la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua sorella Beata che, come lei, soffre della sindrome di Asperger. È il racconto delle grandi difficoltà di una famiglia svedese che si è trovata ad affrontare una crisi imminente, quella che ha travolto il nostro pianeta. È la presa di coscienza di come si è urgente agire ora, quando nove milioni di persone ogni anno muoiono per l'inquinamento. È il grido d'aiuto di una ragazzina che ha convinto la famiglia a cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo intero. La nostra casa è in fiamme, la nostra battaglia contro il cambiamento climatico di Greta Thunberg, Edito Mondadori. Miss e Mister Modamare 2019 saranno eletti domenica prossima al culmine di una serata di sfilate Modamare, ma anche di ballo e intrattenimento che si svolgerà presso il Planet Dance, serata promossa dal team di Creazioni Sotto le Stelle che sono già all'opera per il gara di moda ed air stylist che si terrà a settembre. In quell'occasione sarà eletta Miss Cinema. Ma sentiamo le interviste. Miss e Mister Modamare saranno scelti domenica prossima nel corso di una serata dedicata al look estivo e ai capelli. Ad organizzarla è il team di parrucchieri di Creazioni Sotto le Stelle Lilla Pomilia, Filippo Curreri, Enzo Bitetto e Luigi Colletti. Creazione Sotto le Stelle sarà associata a livello regionale a una ragazza per il cinema che in più c'è questo avvenimento che sarà fatto, come hai detto tu, il 14 luglio. Le persone, la ragazza o il ragazzo che vinceranno questa serata, che sarà appunto Mister e Mississimo Damare sarà dedicata alla bellezza, alla bronzatura, alla bellezza corporea della donna e sia dell'uomo al portamento. Chi vincerà quella serata passerà direttamente allo show finale di Grand Soiree che sarà fatto il primo settembre che poi ne parleremo in seguito e sarà un avvenimento abbastanza importante. Già ci sono molti ragazzi e molti ragazzi nelle zone di Mitropi, abbiamo di Ribera, di Menfi, Caltatissetta, Caltabellotta insomma di tutte queste zone. Tra l'altro delle bellissime persone, quindi speriamo che sia fatta una cosa graziosa. Ma l'avvenimento sarà fatto a Planet, l'ex bandiera gialla. L'invito è per tutta la cittadinanza a partecipare perché sarà veramente un bel momento, almeno una cosa nuova per noi perché è il primo anno che ci accingiamo a fare una cosa del genere. Iscrizioni ancora aperte per chi volesse tentare la possibilità non solo di partecipare alla serata di moda del stylist che si svolgerà a settembre, ma anche di concorrere a Miss Cinema, concorso che si svolgerà la sera dell'1 settembre. Intanto domenica ci sarà anche spazio per i parrucchieri di parlare di look estivo. Nella prima parte di giorno 14 faremo vedere delle piccole cose, ma anche grandi cose. Sarebbero delle acconciature mare, tema mare. Poi per il primo settembre invece lì avremo un evento diverso, più bello, più intenso. Faremo delle acconciature, dei tagli in diretta, come abbiamo sempre fatto nelle altre occasioni. E quindi cosa dire? Per il 14 venite in massa perché sarà un evento bello. Sceglieremo questa ragazza e questo ragazzo belli, stupendi, ma che non sono solo belli e stupendi, ma devono avere anche la materia grigia. Perché se andranno avanti, andranno a Cinecittà, quindi avranno bisogno anche di questo e non solo della bellezza fisica, ma ci vuole anche quella mentale. L'ex calciatore della Nazionale Italiana e Campione del Mondo 2006 Simone Perrotta è stato a Sciacca, ieri ospite della Nanà Gulino Academy, che è stata una delle tappe siciliane del camp dell'Associazione Italiana Calciatore di cui Perrotta fa parte. Obiettivo del camp è quello di promuovere il fair play tra i giovani. C'è il servizio. Una giornata sciacca per il campione del mondo Simone Perrotta, ospite della Nanà Gulino Academy nell'ambito di una delle tappe degli AIC Camp, camp organizzati e proposti dall'Associazione Italiana Calciatori. L'iniziativa ludico-sportiva si è tenuta presso i locali del Residence Isabella Sport. Simone Perrotta, come si ricorderà, è stato uno dei big degli anni 2000. Ex centrocampista di Juventus Chievo e Roma è ricordato soprattutto per gli exploit con la Nazionale Italiana. Ha giocato e vinto infatti un campionato europeo Under 21 nel 2000, due europei con la Nazionale Maggiore e vinto il Mondiale del 2006, collezionando in tutto 48 incontri e due gol con gli azzurri. L'ex calciatore ha incontrato e seguito gli allenamenti di un nutrito gruppo di giovani, di età compresa tra i 7 e i 13 anni, appartenenti alla Gulino Academy. Come di consueto, per Perrotta, un bagno di folla a suon di autografi e selfie con i piccoli ammiratori. Perrotta, oltre ai giovani atleti, ha conosciuto e si è intrattenuto anche con lo staff tecnico della Gulino Academy, non mancando di gustare, in compagnia di Nanà, una delle specialità gastronomiche di Sciacca, ossia il famoso cannolo particolarmente apprezzato. Un'iniziativa importante, non solo per conoscere un calciatore famoso, ma anche per apprenderne i consigli e mettersi in mostra dinanzi al suo sguardo attento. Gli AIC Camp sono giunti alla loro settima edizione, un progetto iniziato nel 2013 con l'obiettivo di veicolare quei valori di free play ed etica sportiva che sono alla base del lavoro del Dipartimento Junior dell'Associazione Italiana Calciatori, coordinato appunto dal campione del mondo Simone Perrotta, che sta seguendo in prima persona alcune delle tappe del tour estivo. Negli AIC Camp è insito un percorso educativo rivolto ai giovani, che ha l'obiettivo di promuovere la disciplina individuale e di squadra, il rispetto delle regole e dell'avversario. Dal punto di vista tecnico, l'obiettivo primario invece è quello di proporre ai partecipanti attività sportive nuove e coinvolgenti, dando suggerimenti e tracce tecniche da poter poi sviluppare durante l'intero anno agonistico. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime.